Ragazzi, sapete che cos'è questa? Rimanete fino alla fine per scoprirlo. Per prima cosa rompo un uovo dentro la ciotola, poi aggiungo circa due cucchiai di sciroppo d'agave. Diana, che cosa ci stai preparando oggi? Oggi ragazzi vi farò vedere come fare una ricetta per la colazione squisita e velocissima. Potete farla proprio sul momento appena vi alzate al mattino. Col forno o senza? Senza. Poi aggiungo un cucchiaino di burro di arachidi, ma va benissimo anche del burro di mandorle, oppure crema di mandorle, viene chiamata anche così. Anzi, potete farla anche in casa questa crema di mandorle, basta frullare le mandorle per tanto tempo. E lasciano voi l'olio. Bravissimo. Trovate la nostra ricetta sul sito. Poi aggiungo anche della cannella. Se non vi piace la cannella, non c'è problema, potete aggiungere qualsiasi altra spezia che vi piace. Aggiungo anche un pizzico di sale per esaltare i sapori. E poi mescolo bene tutto. Gli ingredienti già mi piacciono, Diana. E adesso aggiungo due cucchiai di farina di grano saraceno. Comincio con due e poi se la consistenza è troppo morbida, ne aggiungo un altro. Mescolo bene. Quindi sì, come vedete la consistenza è ancora un po' troppo liquida. Aggiungo un terzo cucchiaio di farina di grano saraceno. Oppure voi potete usare anche un altro tipo di farina. Ora aggiungo anche mezzo cucchiaino di lievito in polvere per dolci. Beh, hai già capito che si tratta di un dolce, giusto? Beh, certo, certo. Ok, fin qui ci siamo. Fin qui ci siamo. Ora metto il composto da parte e prendo due banane. Quindi muovo la buccia. Sai che le banane nei dolci mi piacciono un sacco? Anche a me. E poi danno proprio sofficità al dolce e profumo, mamma mia. E a voi ragazzi le banane piacciono nei dolci? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, siamo curiosissimi. Adesso taglio le banane a metà. Ah, perfettamente a metà. Esatto. Anche l'altra. Adesso prendo le banane, la padella e mi sposto ai fornelli. Diana, domanda curiosa. Ma secondo te tutte le torte si possono fare in padella? Secondo me non tutte. Per esempio le ciambelle no, però le torte tradizionali, quelle semplici, secondo me sì, potete cuocerle in padella, magari con un foglio di carta da forno sotto. Fate attenzione a non tenere la fiamma troppo alta, se no poi la bruciate. Quindi tenetela ad occhio, mi raccomando. Però in linea di massima si può fare. Quindi, qui imposto la temperatura non troppo alta, la lascio su 7. Poi prendo il pennello, spendo la padella con un filo d'olio. Quindi fuoco medio diciamo? Esatto. E poi metto anche dello sciroppo d'agave, così, in padella. Ok, interessante. Ora lo abbasso a 4 e poi vado a distribuire le banane nella padella, in questo modo. Ah, mamma mia, chissà che buono sono sto ricetto. Vedrai, mamma mia, c'è già un profumo buonissimo. Adesso alzo un po', così facciamo caramellare bene le nostre banane. Wow! Adesso vado a versare il composto che abbiamo preparato prima sulle banane. Poi distribuisco un po' la pastella. Quindi adesso copro e faccio cuocere a fiamma medio-bassa. Quindi lasciamo a 6 per ora. Ragazzi, mentre aspettiamo, mostrateci il vostro supporto lasciando un mi piace a questo video e condividetelo, mi raccomando, con tutti i vostri amici. E soltanto grazie al vostro supporto, se noi siamo oggi qui, a condividere tutte queste ricette con voi e anzi, nei prossimi giorni ne arriveranno altre ancora più buone. E seguiteci anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio. Anche lì pubblichiamo tante cose interessanti e dietro le quinte, quindi vi aspettiamo. A questo punto proviamo a girare questo gigante pancake. Quindi ci aiutiamo con il coperchio. Vediamo se è caduto, sì. Alziamo la padella. Wow! Adesso, con tanta delicatezza, proviamo a rovesciarla di nuovo nella padella. E la faccio cuocere di nuovo per un paio di minuti, coprendo col coperchio. Io direi che ci siamo ragazzi, c'è un profumo spettacolare qui in cucina. Adesso ci spostiamo di là. E adesso sopra vado a mettere dello sciroppo d'agave, o anche d'acero va bene, oppure del miele. Ma quanto vi ispira! Come la chiamiamo questa, Diana? Ditecelo voi ragazzi! Come la chiamereste? Poi io sopra ci metto anche delle gocce di cioccolato fondente. Ditemi se questa non è perfetta per la colazione. Ditemelo voi. Cioè domani mattina vi alzate, prendete due banane e fate questa ricetta. Bravissimo. Guardate che bella ragazzi. Ma chissà se è buona, che ne dici Diana? Adesso assaggiamo subito, subito. La tagliamo come una pizza praticamente. Praticamente sì, vediamo, wow! Vediamola all'interno, vediamo all'interno. Ragazzi, è sofficissima! Ragazzi, fatta in padella. Che altro dobbiamo dirvi? Bisogna solo provarla, Diana. Subito, subito non aspetto altro. Vado. Facci sapere. Mmm, mamma mia! Che? Ragazzi, si scioglie in bocca. Bellissima! Wow! Questa sarà la mia colazione tutti i giorni. Vim, sì! Grazie a tutti.